ok stiamo intendo nello studentato ovviamente io ho scolto la strada più corta ma quella più ripida però non è ancora ripida ma dopo lo diventerà e vabbè c'è qualche casa ma non credo degli studenti le case degli studenti sono questi casani enormi dove ogni piano ha circa 6 camere singole con un bagno in comune e una cucina in comune io abito oltre quel palazzone che potete vedere laggiù vi evito di fare la strada insieme a me e ci sentiamo fra poco